Ciao Caetianino, tutto bene? Ciao nonna, a me tutto bene? A te tutto bene nonna? Caetianino tutto bene, le solite cose, passiamo la quarantena io e il nonno, fa i servizi, prepara il pranzo, la cena, vedo la tv e questa è la giornata mia nonna e tu? Nonna, solo le cose, passiamo il tempo, passiamo il tempo, a me e i compagni facciamo la plessis, facciamo la video chiamata, la messa e la scuola, poi cucinare la mamma, cucinare la mamma. Bravo Caetianino il nonno, tu devi continuare a studiare il nonno, ti raccomando non scendere, fai bravo a nonna, che poi finisce tutto, ci abbracciamo, ci baciamo, adesso in questo momento a nonna devo preparare la cena, ti raccomando a nonna, continua, studia, hai capito? E continua, fai bravo a nonna, hai capito? A nonna ti bacio, un forte braccio, a te, a tua mamma e tuo papà, anche il nonno ti saluto, ciao amore la nonna. Anche io voglio bene nonna, mentre l'ora l'ha baciati, c'è lui che è il nonno, ciao nonno, ciao Nina. Ehi Anno, si prende, sono qui. Ehi come si fa questa video chiamata? Ernesto, vieni a prendere un po', mi piacere, facciamo la video chiamata. Vai ma, vai ma, si vede, grazie assai a me. Ehi Anno, mi senti Anno? Parla, parla Catiani, Anno, non ti senti, non ti senti. Anno, metto il telefono colpato, un uomo che non paga. Catiani, come mai? Che mi hai chiamata tu, non mi chiamai mai, come mai? Anno, cosa hai chiamato? Voglio dire, come si fa? Tutto a posto, tutto a posto, Anno, a te che si riesce. Prese le mani, mi sapesse qualcosa. Dice la verità, qualcosa di sordo, stai andato senza una lira. Che c'ha fatto? E io a me che vuoi? Anno, dopo la pensione, spesso mi faccio 100 euro. Quando la finestra prende, un po' di domina la volta. Ma qua la pensione è pensione. Che c'è fatto per uscire la sua nonna. Questo virus mi ha rotto l'umbrella, la nonna sua carnala. E si vanno tutti, vanno tutti. Vanno a casa questa, a casa che la fai questa. Oh, è finita. Ehi, vieni qua. Chi è il puto? Guarda il tuo nipo. E lui? E lui? E lui? E lui? Non si vanno a partire da qua? E Davillano? E lui? E lui? E lui? E lui? E lui? E lui? Ciao. Ciao! Ciao! Mamma mia, vi ho chiesto di Jessica. Non sono i tuoi ragazzi. E lui? 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 Grazie a tutti.